Da supermarket dello spaccio a spazio di edilizia pubblica restituito ai cittadini, i ragazzi del collettivo Lambretta sono orgogliosi dell'occupazione che dal 21 aprile li ha portati a bonificare socialmente quattro villette Aler in piazza Ferravilla a Milano, creando un punto d'incontro dedicato ai residenti con cineforum, corsi di danza, di yoga, laboratori sulla cosmesi naturale e wifi gratis. Siamo di poter dire che abbiamo ridato e rifatto vivere per il quartiere queste quattro palazzine che prima erano in mano al degrado, allo spaccio di eroina, le abbiamo pulite togliendo vari secchi di siringhe e il quartiere ha risposto bene perché chiaramente dove c'era la raga adesso c'è la socialità, c'è aggregazione. Ma dopo due mesi di attività frequentate da giovani e anziani del quartiere, le villette verranno sgomberate. Ieri sera c'è stata un'assemblea tra il movimento formato da studenti medi, universitari, lavoratori precari e pensionati e residenti che hanno garantito il loro appoggio ai giovani. Tutti questi percorsi sono nominati appunto da uno sgombero imminente. Voi ve l'aspettate? Ma sì, purtroppo ce l'aspettiamo, speriamo che la risposta del quartiere sia in questi giorni tanto forte che forse qualcuno ci possa ripensare. Sono 4.000 trippi petali, le ho lasciate sfitte ormai da anni dall'Aler. Adesso improvvisamente da quando ci siamo noi servono e ci devono mandare via quando in realtà per 9-10 anni le hanno lasciate al completo degrado.